E' illegittimo il provvedimento con cui è stato disposto il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno da minore età ad attesa occupazione. Il caso di specie va regolato in base alla formulazione dell'articolo 32 nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge numero 94 del 2009. E' ciò perché, in applicazione del canone Tempus Regit Actum, l'istanza volta alla concessione del titolo è stata avanzata all'amministrazione in un momento in cui non era ancora intervenuta la novella legislativa più restrittiva, annulla evidentemente rilevando che l'atto definitivo sia stato adottato successivamente.